Restiamo nel Chioggiotto. L'istituto professionale alberghiero lascia Isola Verde per Chioggia. L'annuncio è stato dato dal presidente della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, in occasione della sua visita per gli auguri di Natale al personale della provincia e agli studenti dell'istituto. Sono iniziati da Chioggia i tradizionali auguri natalizi da parte del presidente della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, al personale dell'amministrazione impiegato nelle varie zone del territorio di Chioggia e Cavarzere. Un incontro avvenuto presso la sede dell'istituto alberghiero di Isola Verde, alla presenza degli studenti, che hanno preparato una particolare accoglienza offrendo alla giunta un autobanchetto. Assessori che hanno potuto così apprezzare le abilità degli allievi, dei corsi del settore alberghiero e della ristorazione. Un'occasione ideale, per la prima volta infatti la giunta provinciale si è riunita fuori dalla sede istituzionale veneziana per parlare del futuro del centro di formazione professionale. Da settembre 2010, annunciato la Zaccariotto, l'istituto da Isola Verde sarà trasferito nel centro di Chioggia, mettendo fine ai problemi logistici degli ultimi tempi. Il trasferimento della sede consentirà infatti agli allievi di raggiungere facilmente l'istituto in auto e in treno, favorendo un afflusso maggiore di studenti anche da altre aree della provincia. Prevediamo senza altro di allargare il bacino. Abbiamo in questo momento anche una grossa richiesta da parte dell'area del veneziano, proprio sull'area adulta e quindi questo ci agevolerà moltissimo e amplieremo il bacino di utenza anche sull'area centrale del Veneto. Grazie.